ferramenta moschini in via roma 63 a piagge in provincia di pesaro urbino telefono 0721 89 0136 voglia di pane andiamo da marconi lo storico panificio è presente a piagge dal 1956 e offre una vasta varietà di pane fresco e pizza ma anche pasticceria dolce salato e prodotti da forno tipici della nostra zona vendita all'ingrosso e al dettaglio panificio marconi e in via dante alighieri 3 piagge in provincia di pesaro urbino telefono 0721 89 01 40 che buono questo pane caro mi porti a mangiare la pizza questa sera ancora pizza sì mi porti alla pizzeria da pali e da pali sì pizza ad alta digeribilità doppia levitazione stesa a mano con l'antico rasagnolo venite a gustare la nostra pizza la piadina gli hot dog e le focaccine pizzeria da pali via roma 28 piace in provincia di pesaro urbino telefono 0721 89 04 66 pizzeria da pali pizzeria da pali che buona chiuso il mercoledì agriturismo da gustinell da noi trovate primi piatti come lasagne cappelletti tacconi tagliatelle preparati con passione da elisabetta fiorenza e aldesina secondi piatti con rilevanza di carne arrosto cotte in forno a legna tacchino oca anatra coniglio pollo allevati direttamente da gabriele e i suoi familiari e inoltre piadina e formaggi locali menu esclusivi su prenotazione telefonate al numero 07 21 89 01 83 da gustinell agriturismo minimale in via fraschetta 3 piagge in provincia di pesaro urbino ristorante pizzeria pineta pizza ad alta digeribilità pasta fatta in casa sughi con tartufo pregiato di stagione funghi locali ragù di carne di cinghiale capriolo anatra tutto naturalmente con olio di frantoio barchigiano e che dire dei secondi fiorentina tagliata bistecca arrosti misti di coniglio pollo piccione agnello vini di qualità locali e birra artigianale il tutto in ampli spazi interni ed una meravigliosa e sempre fresca terrazza esterna su richiesta spettacoli musicali per feste e ricorrenze pizzeria ristorante la pineta a cagli in provincia di pesaro urbino inviare della vittoria 13 info e prenotazioni al numero 07 21 78 19 29 la lanterna bianca associazione onlus con finalità umanitarie organizza un concorso diaristico in memoria di filippo maria tripolone la partecipazione è gratuita info su www.lanternabianca.it 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 Grazie. 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 Grazie.